dove fondò gioachina de vedruna de mas 1783 1854 santa e fondatrice dama spagnola moglie di teodoro de mas nobile spagnolo morto nelle guerre napoleoniche gioachina si ritirò allora a visch dove fondò l'istituto del carmelitane della carità ora diffuso in tutta la spagna e in tutto il sud america morì a barcellona durante un'epidemia di colera è stata canonizzata nel 1959 perché molte donne sono state le fondatrici di grandi istituti spirituali e sono rimaste del tutto sconosciute a differenza dei maschi commento perché hanno pagato il maschilismo della chiesa